Buonasera e ben trovati in questa seconda edizione del TG Sein. In primo piano questa sera c'è il progetto Ombrina Mare all'indomani del dietro front del governo che ha presentato un emendamento alla legge di stabilità per ripristinare il limite delle 12 miglia entro le quali non è possibile fare trivellazioni. Grande soddisfazione è stata espressa dal presidente della regione Luciano D'Alfonso che ha sottolineato il grande gioco di squadra per decretare la morte giuridica di Ombrina Mare. Presidente D'Alfonso, una giornata importante quella di oggi per l'Abruzzo alla luce di quello che è accaduto ieri riguardo Ombrina. Io da diversi giorni ho anticipato anche davanti ai petrolieri riuniti in Abruzzo in sede di Confindustria che il mese di dicembre non sarebbe stato neutro. Dal punto di vista della produzione normativa garanzia della qualità del mare, non solo abruzzese e del cosiddetto mare blu che sta a cuore anche all'Europa. Tant'è che il governo ha presentato dopo un'intensa attività di colloquio competitivo con le regioni, con le regioni del Mezzogiorno ma anche con il nuovo presidente della conferenza, Bonaccini. Io che ho seguito e accompagnato un po' il lavoro delle regioni del Mezzogiorno a cominciare anche dal luglio del 2015, abbiamo fatto sì che il governo potesse presentare un emendamento correttivo e abrogativo che ripristina la competenza in capo alle regioni, che toglie la strategicità per l'approvvigionamento energetico petrolifero, che allontana oltre le 12 miglia le attività di ricerca e prospezione e poi soprattutto porta a morte giuridica Ombrina. Noi come regioni abbiamo preso l'iniziativa dell'attività referendaria e abbiamo fatto valere questo valore, facendo in modo che il sistema del governo centrale si accorgesse di quanto stava a cuore al popolo e alla comunità. Mi era stato chiesto di fare la funzione della comunità che si metteva in cammino per protestare e manifestare. Io ho voluto declinare invece in termini di ordinamento la competenza che ha una regione. Qui hanno lavorato i cittadini del popolo e le istituzioni ed è questo che ha portato un grande risultato. Noi saremo a guardiania della tutela del mare blu, esattamente come dice la strategia della macro regione adriatico ionica. Ne potevo consentire che in Europa si dicesse una cosa e in Italia se ne facesse una esattamente opposta. Sono contento, ringrazio i tanti cittadini che si sono mobilitati mettendoci tempo ed energia, perché quello che fanno i cittadini lo fanno all'insegna della genuinità e della generosità. E poi voglio ringraziare i collaboratori, i colleghi presidenti di Giunta regionale, Claudio De Vincenti di Palazzo Chigi, il segretario generale, il capo della segreteria, Matteo Renzi, la Boschi, che hanno fatto in modo da recepire questa grande richiesta di cambiamento. La notizia è stata accolta con entusiasmo dalle associazioni ambientaliste che però dicono la battaglia non è ancora conclusa, secondo gli addetti ai lavori che continuano appunto a tenere alta l'attenzione proprio sull'iter parlamentare. Esultano gli ambientalisti all'indomani della notizia sull'emendamento votato dal governo alla Camera che ripristina il limite delle 12 miglia a tutte le attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi. La battaglia contro la petrolizzazione, quella valza a tante manifestazioni e mobilitazioni, procede con una buona notizia. Non è finita la guerra, a me piace usare questi termini, però è solo un passo importantissimo, storico per l'Abruzzo in un lungo percorso, in un lungo cammino che ci deve portare a uscire dal mondo degli idrocarburi, anche perché il nostro pianeta sta morendo addirittura, secondo gli scienziati, a causa dei cambiamenti climatici. Quindi noi dobbiamo combattere tutti i giorni, ma è un grande segnale ai cittadini per dire che chi si impegna poi ottiene grandi risultati e anche qualcosa per cui mi viene a dire vale la pena vivere, e cioè essere contenti di salvaguardare la propria terra e anche la propria comunità. Cosa è stato determinante secondo voi? L'impegno civico, l'impegno anche del singolo cittadino, anche da quello che ha solo condiviso un po' su Facebook, sui social, fino ad arrivare agli attivisti che si sono dati da fare tutti i giorni. Chi ha potuto dare un proprio contributo è stato non solo ben accetto, ma è stato fondamentale in questa lotta. Davide può battere golia, così dicono oggi gli addetti ai lavori. In questa lunga controversia, ancora non scampata, oggi una menzione speciale va a chi ha contribuito come parte attiva. Devo dire sì, altresì, che c'è stato il contributo, questo lo devo dire per onestà, di Giovanni Legnini. Giovanni Legnini è stato determinante in questa partita. Noi siamo in contatto con lui da oltre due mesi, è lui che ha cuscito tutto il progetto, è lui che ha dato l'impulso più determinante a questo grande risultato. E ora cambiamo pagina, oltre 9 milioni di euro a disposizione per il dragaggio del porto di Ortona che potrà così accogliere le grandi navi e fare un salto di qualità nell'ambito della trasportistica e della connettività europea. D'Alessandro, una giornata importante, quella di oggi per le infrastrutture, per una grande infrastruttura, qual è il porto di Ortona perché arrivano fondi importanti? È la più grande infrastruttura che la regione Abruzzo ha su cui costruire l'economia regionale, io mi piace definirla il secondo tempo dell'economia regionale, oltre all'aeroporto. Ma dal porto e con il porto noi possiamo costruire l'aggancio nel futuro, nello sviluppo economico futuro della nostra regione. Noi abbiamo già stanziato 9 milioni e 350 mila euro, ma il comune di Ortona, cioè la stazione appaltante, doveva appaltare entro il 31 dicembre pena perdita di finanziamenti. Questo non è stato perché abbiamo costituito una regia insieme al comune, così come facciamo sulle altre parti, cioè abbiamo trasformato la regione come uno strumento attivo e non con un notaio che guarda a volte anche i fallimenti consumarsi senza intervenire, per fare in modo che neanche un centesimo ritorni indietro e che tutto venga impiegato per lo sviluppo e per l'occupazione prossese. Su Ortona che si costruisce l'economia regionale, nel senso che su Ortona ha le caratteristiche tecniche, gli specchi d'acqua e oggi con questi lavori, la profondità, da poter accogliere navi di ultima generazione, non a caso il porto di Ortona entra dentro il masterplan, sia per alcune opere importanti dentro il sedime portuale, sia fuori il sedime portuale. Per esempio penso al collegamento autostrada-porto, penso al finanziamento e progettazione per la bretella di collegamento ferroviaria e noi è lì che costruiamo il polmone. Insieme a Basto, per quanto riguarda la vocazione prevalentemente per le merce e per l'industria. E continuiamo a parlare di infrastrutture strategiche nella nostra regione. Presentato questa mattina dal Presidente della Saga, Nicola Mattoscio, il nuovo piano commerciale dell'aeroporto d'Abruzzo di Pescara. Numeri ancora in crescita nel 2015. Presidente Mattoscio, nuova polisi commerciale dell'aeroporto, nuove rotte e si parla ancora di innovazione per quanto riguarda l'aeroporto d'Abruzzo. Intanto voglio sottolineare che per la prima volta nella storia di questa società rendiamo pubbliche le polisi nel rispetto delle normative specifiche della materia. Questo significa che ogni offerta che i vettori internazionali e nazionali vorranno rimettere alla nostra società dopo la pubblicazione che avverrà questa mattina sul nostro sito delle nuove polisi dovranno rispettare scrupolosamente le normative europee in materia di aiuti di Stato. Noi ci prefigiamo di consolidare il volume di traffico del nostro aeroporto e possibilmente accrescerlo gradualmente, ma il tutto in una logica di economia relativamente al costo degli incentivi che lo stesso aeroporto potrà sostenere nel prossimo futuro. Nel senso che deve essere chiaro che noi ci diamo e ci siamo dati l'obiettivo di ridurre significativamente il peso degli incentivi a favore dei vettori che utilizzano il nostro aeroporto. Abbiamo dei risultati straordinariamente positivi. A fine anno pensiamo di superare la barriera del suono, come noi la consideriamo, che sono i 600 mila passeggeri. Cresciamo significativamente più di quanto cresce il sistema nella sua interezza a livello nazionale e in particolare relativamente al nostro segmento di mercato. Faccio notare che tutti gli aeroporti italiani crescono per i primi 11 mesi dell'anno solo dello 0,8%, mentre noi cresciamo di oltre l'8%. La cronaca saranno processati in sette per concorso in reato ambientale e falsità ideologica in merito all'inchiesta che il 18 settembre del 2014 portò al sequestro di un impianto fotovoltaico da 2 megawatt realizzato all'interno dell'area sportiva turistico-ricreativa attrezzata di Pizzo Ferrato, in provincia di Chieti, che non poteva essere toccata per 10 anni. L'opera costò 400 mila euro con finanziamenti dalla regione Abruzzo, comunità di Quadri e Comune. L'obiettivo era la valorizzazione del fiume Sangro e i lavori finirono nel 2006. Oggi il gruppo di Lanciano Marina Valente ha rinviato a giudizio appunto sette persone con processo fissato al 19 aprile del 2016. Tra queste l'ex sindaco Nicola Tarantini, Dante Bucci, dipendente dell'ufficio tecnico comunale e poi i legali rappresentanti e tecnici dell'Agri Energia, SRL di Genzano di Lucania. Secondo l'accusa della procura di Lanciano, l'impianto venne sdoppiato in un megawatt ciascuno, beneficiando della procedura abilitativa semplificata, aggirando le ferre enorme legislative in materia di urbanistica, ambientale e paesaggistica. Nuovi investimenti su reti e depuratori e minor costo del servizio idrico per i terramani, nonostante l'aumento delle bollette annunciato per il 2016 a livello nazionale. La Ruzo Reti annuncia dunque nuovi investimenti. Nuovi investimenti per la manutenzione delle reti idriche, degli impianti di depurazione e conti in graduale miglioramento, anche grazie agli interventi per contenere le spese e tagliare i costi superflui. Questa, in sintesi, la situazione in cui si trova la Ruzo Reti, gestore del servizio idrico in provincia di Teramo, che oggi, sottolinea il presidente Antonio Forlini, può dire di avere scongiurato il rischio fallimento e compiuto già una parte del percorso che la dovrà portare a completare l'operazione di risanamento. I investimenti saranno prevalentemente quelli finanziati con i fondi FAS, quindi depuratori di Tortoreto e di Albadriatica, ma in generale abbiamo in programma un piano di manutenzione straordinaria delle grandi adduttrici per evitare le situazioni come quella di quest'inverno a Pastino, e poi un piano di dismissione delle fosse IMOF che stiamo concordando con la regione, sono circa 400 queste fosse, per migliorare la qualità delle acque riversate nei corpi idrici, soprattutto nelle zone interne. Già a partire dall'esercizio 2015, la spesa annua prevista per l'utenza media è passata da 197 a 227 euro allo scopo di finanziare i nuovi investimenti. Un aumento netto di 30 euro che, rapportato alla spesa media preventivata dagli altri gestori del servizio idrico, pone comunque un ideale classifica alla Ruzo Reti, al penultimo posto in Abruzzo. Le tariffe sono state rideterminate sulla base di parametri obbligatori dettati da un'autorità nazionale, che è la stessa autorità che regola il servizio elettrico e del gas nel nostro paese. Lei ha detto esattamente, ha rappresentato la situazione, nonostante questa rideterminazione, la provincia di Teramo resta ancora tra le province con il costo più basso in termini di tariffa, quindi di incidenza sulla famiglia. E non solo sul piano regionale, ma molto al di sotto della media nazionale. Restiamo a Teramo, dove la consigliere comunale del Partito Democratico, Manola Di Pasquale, vista la situazione di malcontento che regna tra i banchi della maggioranza, è tornata a chiedere le dimissioni del primo cittadino. Maurizio Brucchi. Giovedì a Teramo è prevista la seduta del Consiglio Comunale, tra le altre cose si parlerà del Presidente del Consiglio di Sabatino e vorrà fare l'opposizione qualche osservazione sull'annuncio fatto dal Sindaco Brucchi, finalmente il rimpasto, l'azzeramento di giunta previsto per il 15 gennaio. Finalmente il rimpasto, dice, in realtà Brucchi ormai che fa questo annuncio ha un po' di tempo e lo fa generalmente per mantenere calma la sua maggioranza che rivendica posti in giunta o in altri luoghi. In realtà questa maggioranza non esiste più, il Sindaco deve prendere atto che non ha una programmazione a lungo termine per la città in un momento in cui invece si vive una difficoltà evidente di gestione anche economica del tessuto produttivo della città stessa e che deve prendere atto quindi che non può continuare a vivere la giornata e parlare solamente di rimpasto e poltrone per accontentare le varie anime che costituiscono la sua maggioranza. Deve fare una programmazione per la città seria se non è più in grado di farla perché in realtà non ha né uomini né programma né idee per questa città assumesse questa responsabilità e si dimettesse. Ecco su questo ci sono state molte polemiche sui mal di pancia all'interno del centrodestra stesso, cosa dovrebbe fare quindi a questo punto? Noi sappiamo bene che Brucchi non è stato eletto su una visione della città proiettata nei cinque anni di amministrazione e lo dico io che ci ho fatto una campagna elettorale contro. Lui è stato eletto perché aveva sette liste che facevano riferimento agli assessori regionali uscenti e al presidente uscente che in cinque anni poco hanno fatto per questa città e ancora oggi che non governano nulla sono praticamente incapaci a dare delle risposte. Questo è il vero problema, il problema vero di questa amministrazione è che loro non sono in grado di dare delle risposte, non hanno una programmazione politica, hanno nuove assessori che comunque hanno un costo. Quindi da parte dell'opposizione cosa dovrebbe fare entro il 15 gennaio? Si dovrebbe dimettere. Il microcredito quale strumento di crescita territoriale e inclusione sociale? E' il tema del convegno che si è tenuto questa mattina a Francavilla nel corso del quale sono stati annunciati anche dei nuovi bandi per il prossimo anno. Uno strumento di crescita territoriale. Il microcredito può essere la chiave di volta di un Abruzzo in sofferenza, soprattutto per tutte quelle piccole microimprese che rappresentano il suo tessuto, quelle che non hanno sufficienti credenziali per ottenere i crediti dalle banche e soprattutto per tutte quelle categorie più deboli che vivono nel limbo della disoccupazione. Dietro questo strumento così potente ci sono storie, storie di persone che hanno avuto difficoltà, che hanno magari ancora difficoltà e grazie a questo strumento sono riuscite a realizzare un sogno. Infatti questo strumento è destinato a persone svantaggiate, a persone che rientrano nella fascia dell'inclusione sociale, quindi disabili, donne, ex tossicodipendenti, ex detenuti, persone disoccupate che non lavorano da molto tempo, in estrema povertà. E riesce a dare questa risposta perché noi non chiediamo garanzie, noi diamo il prestito e la nostra garanzia è la loro capacità lavorativa. Crediamo che i soggetti, grazie alla loro voglia di lavorare, alla loro capacità imprenditoriale, riusciranno poi a restituirci il prestito. Uno strumento efficace che l'Abruzzo ha adottato da tempo ma che ancora non è pienamente entrato nell'immaginario collettivo. L'accesso al credito e quindi la capacità economica e finanziaria è un grande problema. Noi però abbiamo notato che la bassissima percentuale di mancata restituzione ha fatto sì che ci disse conferma che è cresciuta, quindi il senso di responsabilità e consapevolezza delle piccole e medie imprese, quella consapevolezza di onorare l'impegno e questo è sicuramente segno di serietà e professionalità del nostro mondo imprenditoriale. E ora all'Aquila aperta da Monsignor Giuseppe Petrocchi la porta della Basilica di San Bernardino, vista l'indisponibilità a causa dei lavori della Porta Santa di Collemaggio. Oltre 2000 i fedeli che hanno partecipato alla celebrazione. Oltre 2000 fedeli hanno partecipato all'apertura della porta della Basilica di San Bernardino che ha dato il via ufficialmente al Giubileo Aquilano della Misericordia dopo l'inizio a Roma del Giubileo, indetto da Papa Francesco, un Giubileo della Misericordia esteso a tutte le città d'Italia. L'indisponibilità della Porta Santa di Collemaggio, sede del primo Giubileo della storia, quella di Papa Celestino, interessata da lavori di restauro, ha portato all'individuazione da parte dell'Arcivescovo Monsignor Giuseppe Petrocchi della nuova porta ad aprire per il Giubileo della Basilica del Santo Senese, scelta dunque come chiesa giubilare. Perdonanza e Giubileo della Misericordia. Tale veste canonica, certamente, ha introdotto novità, ha detto Monsignor Petrocchi, mantiene però la stessa impostazione apostolica di base, infatti entrambi gli eventi rappresentano importanti manifestazioni universali del Ministero Petrino. Le due iniziative dunque, se non sono proprio gemelle, risultano almeno sorelle, quindi strettamente imparentate. Si capisce, ha detto ancora, perché noi aquilani, che in buona compagnia con Papa Celestino, celebriamo da diversi secoli la perdonanza, siamo oggi in piena sintonia con Papa Francesco. Tantissimi fedeli che hanno voluto partecipare, con raccoglimento e commozione, a questa celebrazione aquilana. Dopo l'apertura della porta di San Bernardino all'interno, è stata celebrata la Santa Messa. Le celebrazioni che hanno accompagnato l'apertura delle porte sante sono avvenute anche nelle altre sedi ocesi d'Abruzzo. Il calendario CAI 2016 è dedicato all'esperienza del viaggio, nella definizione degli alpinisti dell'Ottocento, l'essenza più autentica di chi sale attraverso le montagne, i viaggiatori. Un viaggio lungo 12 mesi, tra gli scorci più suggestivi del Gran Sasso e dei Monti della Laga, presentato in occasione della giornata internazionale della montagna, si rinnova la collaborazione tra CAI, Teramo e BIM per la valorizzazione dell'ambiente montano. La selezione di fotografie che quest'anno abbiamo curato per la redazione del calendario si è concentrata sul versante Teramano in scorci di momenti attimi particolari, diciamo più che visioni d'insieme. Abbiamo cercato di rendere con questi scatti le emozioni che attraversano e che vivono i viaggiatori, gli escursionisti, gli esploratori, cercando così di rendere anche un servizio a chi magari non ha le possibilità di recarsi personalmente in quei luoghi. Per sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema della tutela dell'ambiente montano. Quest'anno in particolare c'è anche Parigi 2015, un momento importante per fare una riflessione a questo punto su tutto il pianeta e tutto il pianeta è chiamato a fare una riflessione su quella che è la tutela della montagna e di quello che comporta magari il non rispettarla come si dovrebbe. La presentazione del calendario CAI in collaborazione con il BIM in occasione della giornata internazionale della montagna. Ma per noi è un appuntamento fisso per quanto riguarda il CAI perché abbiamo un accordo non soltanto a livello locale ma l'abbiamo anche a livello nazionale tramite la federazione. Il BIM è un valore aggiunto al territorio, in particolar modo alla montagna. Presentata a Pescara dall'assessore Annalisa Palozzo la terza edizione della manifestazione Illumina il Natale di Creatività che si svolgerà a Cepagatti. Illumina il Natale di Creatività, terza edizione a Cepagatti. Annalisa Palozzo, assessore del Comune di Cepagatti, terza edizione. Quali le novità? Abbiamo voluto realizzare questo concorso aperto a tutta la cittadinanza ma non solo. La novità è che ci apriamo anche agli esercizi commerciali e alle istituzioni scolastiche. Il premio è giunto alla terza edizione, ogni anno abbiamo un numero crescente di iscritti, ci auguriamo che anche quest'anno vada bene. Vuole creare delle sinergie tra tutto il tessuto sociale, le associazioni che sono anche qui oggi presenti. Il concorso prevede la realizzazione di addobbi, che siano presepi, alberi, luminari, tutto sul tema del Natale e con particolare attenzione a quello che è il tema del riciclo. Quindi premeremo in particolare maniera, prenderanno un punteggio più alto gli addobbi realizzati con materiale naturale e con materiale riciclato. Viste le attuali condizioni di tutti i comuni, di crisi economica, abbiamo voluto risparmiare utilizzando quelle che sono le forze locali. Quindi stimoliamo i singoli cittadini e le attività commerciali ad addobbare essi stessi la propria casa, addombando la propria casa o il proprio negozio ci aiutano ad addobbare tutta la città. Chi sarà il più bravo verrà premiato. Apriamo la pagina sportiva e parliamo ovviamente di Serie B e di Pescara nella settimana che porta al derby di sabato prossimo al Biondi a Lanciano contro la Virtus. Buone notizie quest'oggi per Ugo Campagnaro. Il difensore argentino si è allenato con il gruppo, dunque ci sono buone possibilità di vederlo in campo nella partita del Biondi. Per quanto riguarda l'altro difensore, Michele Fornasier, che si è fermato proprio nella rifinitura pre-gara con la Virtus. Centella ha svolto lavoro differenziato, dunque potrebbe recuperare, ma a questo punto probabilmente Campagnaro è in vantaggio per un eventuale impiego nella prossima partita. sempre fermi Torrera e Cappelluzzo che stanno recuperando dai rispettivi acciacchi. Intanto è tornato in campo da titolare contro l'entella Andrea Cocco che non ha segnato, ha però giocato una buona gara e magari conta di sbloccarsi proprio al Biondi. Un campo dove peraltro ha segnato un paio di stagioni fa quando indossava la maglia della regina. Sono contento per la prestazione mia, ma soprattutto della squadra, perché oggi abbiamo dato una risposta importante contro una squadra che non perdeva da 12 partite, penso. Quindi abbiamo fatto un'ultima prestazione e ci siamo anche noi. Sono sempre stato, quando mi stiamo chiamati in casa, ovvio, ora sto molto meglio fisicamente, penso che si veda anche, quindi ringrazio ai compagni che mi sono sempre stati vicino e pensiamo alla prossima. Io non parlo dei mercati innanzitutto perché sono concentrato con il Pescara, penso solo al Pescara e quindi non è il momento sicuramente di parlare di questo argomento. Pensiamo alla prossima partita perché devo andare a continuare i risultati e questo è l'importante. Sicuramente apprezzo quella parte di pubblico che mi ha incitato perché ho capito che purtroppo è un periodo acce sotto l'aspetto dei gol, però non mi devo buttare giù, le occasioni ci sono state, quindi questo è un buon segnale. Poi un pizzico di fortuna perché nel momento del team mi è rimbalzato un po' quindi per quello è andata alta, però l'importante è la vittoria e la risposta dopo questo periodo è un po' così. Quando non si gioca un po' di fiducia si perde, non è sempre facile poi comunque subentrare a qualche partita magari che siamo sotto, quindi sicuramente è una situazione difficile, però ho sempre sentito la fiducia dei miei compagni e questo penso che sia l'importante. In questo periodo che mi ha continuato a dare morale e ho continuato a dare armi al massimo, penso che oggi comunque sia dato una buona risposta. Non sarebbe mai sbloccare proprio nel derby, quindi lavorerò duro in settimana per far convincere il mistero e per partire dall'inizio, sarebbe già una continuità importante. Per il settore ospiti, dunque per i tifosi del Pescara sono a disposizione 1236 tagliandi, appunto per il settore ospiti non sarà possibile aderire alla opzione porta un amico. I tagliandi saranno acquistabili soltanto in prevendita e fino alle ore 19 di venerdì prossimo, cioè il giorno precedente la partita. Non saranno invece acquistabili i tagliandi nel giorno stesso della gara. Poi la Delfino Pescara in accordo con la Virtus Lanciano comunica anche che fino alle ore 13 di dopodomani, mercoledì, la vendita del settore ospiti di Lanciano sarà riservata in prelazione agli abbonati biancazzurri di questa stagione 2015-2016. A seguire la vendita sarà libera, come detto, fino alle ore 19 di mercoledì. Ora parliamo di Virtus Lanciano, che oggi ha ripreso gli allenamenti ed è tornato pienamente in gruppo il difensore Federico Amenta, mentre ha lavorato in maniera differenziata all'uomo del momento per la Virtus Lanciano, ovvero Antonio Piccolo, che ha riportato nella gara di Avellino un leggero trauma contusivo, distorsivo alla caviglia destra, proprio quell'infortunio che ha causato anche la sua sostituzione subito dopo il gol dello 0-2 segnato da Di Francesco proprio su un tiro effettuato da Piccolo che ha dato all'azione. Lavoro in piscina per il brasiliano Zé Eduardo, molto difficile il suo recupero, lavoro differenziato anche per Vastola e Ferrari, che però non saranno della partita. Torneranno a disposizione Di Matteo e Di Cecco, mentre sarà squalificato il difensore Aquilanti. Il tecnico da Versa nel frattempo non nasconde la sua rabbia per la sconfitta in terra irpina. L'illusione c'è perché comunque, ripeto, nonostante fossimo uno in meno, bisogna considerare anche che la terza parte di una settimana a livello fisico siamo un po' calati e lì dove siamo stati bravi, a parte i primi 20 minuti, dove magari c'è stato un po' di supremazia da parte dell'Avellino, il secondo tempo non siamo stati bravi a rimanere alti come abbiamo fatto il primo tempo, ci siamo abbassati troppo e lì dove magari per struttura abbiamo sofferto un po' troppo questi traversoni, di conseguenza l'aspetto fisico superiore al nostro e sulle seconde palle ci hanno castigato più del dovuto. Secondo me sulla gestione dei cartellini non è stata equa, però dobbiamo essere i primi, non possiamo guardare sempre il nostro articello, quando la cosa succede a noi va bene oppure quando succede il contrario. Mi dispiace questo perché da un collega mi aspetto che magari si reclama, si reclama per il giusto e non per il partito preso per portare dalla propria parte l'operato di una terra arbitraria. Si parlava del primo tempo dove c'è stato, si è reclamato, sto dicendo, si è reclamato più del dovuto per il fatto che ci fosse un rigore al primo tempo a favore dell'Avellino, cosa che non mi risulta, c'è un regolamento, se il braccio è attaccato non mi risulta che debba essere rigore, se il braccio è staccato perché voi mi parlate di errore e quindi c'è il rigore, poi se vogliamo parlare del secondo tempo è un'altra decisione, può arsi che c'era quel rigore di Casadelli sul giocatore come potasse che c'era il fuorigioco dell'attaccante sul terzo gol. Io non sono qui a parlare degli episodi e non l'ho mai fatto e mai lo farò, sono una posizione di classifica dove per me sarebbe troppo semplice andare a dare le colpe a responsabilità alla terra arbitrale, sto solo dicendo che noi per primi o facciamo i professionisti o o facciamo i tifosi. Sul primo tempo il rigore per l'Avellino non c'era, per noi sì, regolamento alla mano, secondo tempo molto probabilmente il rigore sul giro c'era, però questo non significa che si deve preclamare al primo tempo per ottenere poi qualcosa in più nel secondo. E' chiaro, sul concetto degli ammuniti ci sediamo a tavolino e secondo me Aquilanti non andava espulso. E per quanto riguarda la vendita dei biglietti sul fronte Virtus Lanciano, non solo oggi ma anche per tutta la giornata di domani sarà possibile acquistare i biglietti con la prelazione per tutti quei tifosi che avevano acquistato il tagliando per la gara precedente casalinga ovvero Virtus Lanciano-Cagliari, quindi andando nei punti vendita ed esibendo il tagliando di Lanciano-Cagliari sarà possibile avere lo stesso posto, lo stesso settore. Poi da mercoledì invece la vendita sarà completamente libera. Questo è quanto per i settori a disposizione dei tifosi della Virtus Lanciano. Scendiamo in Lega Pro e parliamo di Teramo che domenica prossima chiuderà la stagione con l'ultimo test di campionato valevole per la penultima giornata di andata a Ferrara contro la capolista Spal. Mercoledì però ci sarà anche il turno di Coppa Italia alle ore 16 contro la Casertana al Bonolis. Uno dei giocatori del momento è il centrocampista Alessandro Di Paolo Antonio che ha ritrovato il posto da titolare e nelle ultime due partite casalinghe è andato anche in gol. Ascoltiamo le sue parole. Alessandro Di Paolo Antonio, altro gol in casa, ancora più bello di quello segnato contro il Siena, sei d'accordo? Sì dai, comunque risiamo al discorso che è stata una vittoria fondamentale perché da come vediamo fuori casa facciamo troppa fatica quindi diventano fondamentali le partite in casa e grazie a Dio anche al gol di Lanci che finalmente si è sbloccato abbiamo portato a casa questi tre punti importantissimi anche perché ci siamo levati un po' da questa zona bassa della classifica abbiamo affrontato una diretta concorrente. Senti, vi state specializzando un po' in gol all'ultimo secondo sia con l'Arezzo, oggi con la Pistoiese è comunque un sintomo questo di questa squadra e comunque ci crede fino alla fine? Ma sì, questo lo dobbiamo trasformare anche fuori casa perché comunque in casa si è vero che c'è il pubblico che lo ringraziamo che ci dà una mano per arrivare fino alla fine e questo si vede perché comunque anche oggi non abbiamo mollato e i risultati sono visti, abbiamo trovato il gol alla fine e questo vuol dire che il pubblico comunque c'è d'aiuto e ci sprana fino al novantesimo per non mollare. Senti, in casa di Paolo Antonio gioca, il Teramo vince, può essere un'equazione vincente? Beh sì, sarei tipo un portafortunio però mi aspetto adesso anche di fare il risultato fuori casa perché se vinciamo le partite in casa e poi andiamo fuori casa e non vinciamo comunque serva ben poco. Adesso abbiamo una trasferta difficilissima che però secondo me può essere una trasferta decisiva perché comunque andiamo lì senza nulla da perdere, comunque affrontiamo la prima della classe quindi noi andremo lì a fare la partita e sicuramente non abbiamo nulla da perdere però speriamo di trovare questi benedetti punti anche fuori casa. In Serie D nuova svolta, questa volta più tecnica nel Giulianova perché è stato esonerato quest'oggi il tecnico Francesco Giorgini, con lui sono stati sollevati dall'incarico anche l'allenatore in seconda Tortorici il collaboratore tecnico Pagliaccetti e il preparatore dei portieri Chiavetta. C'era stata la svolta societaria con l'avvento del presidente Serraiocco, ora c'è questa svolta tecnica al posto di Giorgini, come vedete dal sottopancia e in arrivo il nuovo tecnico Michele Gelsi ex giocatore tra le altre squadre, in particolare del Pescara ha Gelsi il compito di risollevare le sorti di una squadra che dopo la sconfitta di ieri con la Vispesaro è rimasta sia all'ultimo posto ma da sola, dovendo recuperare tre punti ora dalla Vispesaro è un punto dalla Miternina al penultimo posto, tutto questo quando manca una giornata alla fine del girone d'andata, del girone F di Serie D. E a proposito di Giulianova, parliamo ora di un giocatore originario di Giulianova ed ex Giulianova ovvero Cristiano Del Grosso che è stato vittima questa mattina alle 6 di un grave incidente stradale ed è stato sottoposto all'intervento chirurgico presso l'ospedale Giovanni XXIII di Bergamo un intervento chirurgico maxillo facciale per la frattura pluriframmentaria del setto nasale l'intervento è perfettamente riuscito, il giocatore presenta inoltre fratture composte di alcune costole senza danni toraco-addominali importanti e delle fratture di alcuni processi trasversi di tre vertebre cervicali per le quali sarà necessario l'uso del collare ortopedico per circa 20-30 giorni il decorso post-operatorio prevede ora il ricovero ospedaliero per circa 7-10 giorni prima di dare inizio alla fase riabilitativa. Quello che abbiamo letto è un comunicato emesso proprio dalla società del Bari squadra nella quale appunto merita ora Cristiano Del Grosso mentre il fratello Federico, lo sapete, gioca attualmente nel Chieti in Serie D e parliamo proprio di Chieti nel prossimo servizio Chieti che ieri è stato battuto dalla capolista San Benedettese per 2-1 all'Angelini Un nitido sole dicembrino accende la gara tra Chieti e San Benedettese ed illumina subito le iniziative velleitarie dei teatini che nel giro di tre minuti collezionano due calci d'angolo senza colpo ferire gli adriatici ben posizionati e pronti ad interagire sui portatori di palla si affacciano al quinto in area neroverde con un invito offensivo di raparo dalla bandierina i minuti scorrono ma la tenuta agonistica latita le squadre rinunciano alla pressione anche perché sono adeguatamente assistite dal movimento di copertura delle difese e l'assetto tattico riveste una posizione prudente al 24esimo la San Benedettese guadagna spazi offensivi verticalizzando il gioco e creando apprezzione che fa preludere alla rete marchigiana grazie anche al modulo di gioco rosso-blu versatile ed imprevedibile si oppone Fatone a Titone ma nulla può su Sorrentino che inneggia al vantaggio Chieti sorpreso ed incapace di cambiare ritmo all'incontro che registra cinicamente la praticità degli uomini di Ottavio Palladini che su calcio di punizione realizzano ancora con Titone adesso i neroverdi sono storditi ma non demordono ci provano al 39esimo con un calibrato calcio di punizione di Massimo a infilare Pegorin ma l'opposizione è magistrale il puntuale direttore di gara senza alcun recupero ordina il rientro negli spogliatoi nella ripresa nessuna sostituzione e così la Samb forte del doppio vantaggio inizia ad amministrare il gioco che al quinto viene interrotto perché l'arbitro sancisce la massima punizione per i neroverdi a fronte di un fallo di mano in area ospite opportuno per evitare la conclusione a rete di Dos Santos ci scappa qualche parola di troppo in campo tre finiscono sul taccuino del signor Cavallina che invita Vitale a battere il calcio di rigore deciso e prorompente il tiro del mediano si vivacizza il tenore agonistico il Chieti è consapevole che le speranze di raddrizzare il punteggio esistono gli adriatici non insistono sui portatori di palla e Zuccarini provvede ad irrobustire la costruzione offensiva fuori Bocchino e dentro il nuovo arrivato Varricchio Palladini non è sorpreso ma con segnale eloquente dice ai suoi di non abbassare la tensione corrono i teatini più degli ospiti ordinano il gioco e dividenziano più convinzione altra sostituzione fuori Massimo dentro Diop e i padroni di casa irrompono nell'area rosso-blu con Dos Santos che non riesce a colpire la sfera Palladini al 31esimo chiama nuove energie in campo fuori Palumbo e Montesi dentro Casavecchia e Pino ancora Chieti 35esimo calcio d'angolo ma poco si immaterializza sotto porta l'ultima sostituzione per gli ospiti al 43esimo fuori l'applauditissimo Titone al suo posto Pezzotti 5 sono i minuti di recupero la Samb stringe i denti il Chieti consuma gli ultimi sforzi la tifoseria rosso-blu incoraggia gli atleti la curva Ezio Volpi indomita non si scompone offrendo il calore sportivo e così il signor Cavallina decreta la fine della gara ed invita tutti a centro campo per un cordiale congedo Fedeli e i suoi ballano il samba Pomponi giura di attrezzarsi per non essere da meno era l'ultimo servizio del TG6 vi ricordo l'appuntamento di questa sera alle ore 21 con il replay di Enrico Rocchi per parlare della vittoria del Pescara sull'Entella ma con la mente già rivolta al derby del Biondi di Lanciano di sabato prossimo il TG6 termina qui la terza edizione alle ore 23 e ora vi lascio al TG6 L'Aquila grazie per l'attenzione buona serata grazie per l'attenzione